Ben ritrovati cari amiche, ben ritrovati cari amici, questa è seriamente la serie a memoria, andiamo adesso a ricordare il terzo blocco di partita del campionato 2001-2002, eravamo rimetti alla quindicesima giornata, adesso partiamo con la sedicesima giornata, arriveremo fino alla ventiduesima. La sedicesima giornata penultima si apre con Chievo Verona a Roma 0-3, Brescia Juventus 0-4, Piacenza Inter 2-3, Milan Verona 2-1, Parma Fiorentina 2-0, Perugia Atalanta 2-0, Lazio Bologna 2-2, Torino Venezia 1-2 con un rigore sbagliato dalle Venezia con Maniero e Udinese Lecce 0-1. Andiamo adesso a ricordare l'ultima di andata, che si apre con Atalanta Chievo Verona 1-2, Bologna Brescia 2-1, Fiorentina Perugia 1-3, Juventus Udinese 3-0, Inter Lazio 0-0, Lecce Milan 0-1, Roma Torino 1-0, Verona Piacenza 1-0 e praticamente è, dimenticavo scusate, Venezia Parma 3-4. Ginone di ritorno, prima giornata che si apre con Chievo Verona 2-2, Milan Brescia 0-0, Atalanta Bologna 2-2, Roma Verona 3-2, Perugia Inter 0-2, Venezia Juventus 1-2, Parma Lecce 1-1, Piacenza Lazio 1-0, Torino Udinese 3-1. Seconda giornata di ritorno, Juventus Atalanta 3-0, Bologna Chievo Verona 3-1, Brescia Torino 1-2 con l'espulsione del torinista Asta, Verona Venezia 1-0, Lecce Piacenza 0-0, Udinese Roma 1-1 con un rigore sbagliato dall'Udinese con Muzzi, siamo poi Inter Parma 2-0, Fiorentina Milan 1-1 con un rigore sbagliato dal Milan con Shevchenko e praticamente li abbiamo detetuti o meglio dimenticavo, scusatemi, Lazio Perugia 5-0. Terza giornata di ritorno che si apre con Lecce Brescia 1-3, Venezia Inter 1-1, Parma Bologna 2-1, Atalanta Fiorentina 2-0, Chievo Verona Juventus 1-3 con un rigore sbagliato da Del Piero, Torino Lazio 1-0, Perugia Verona 3-1, Milan Udinese 2-3 con un rigore sbagliato dal Milan, ancora con Shevchenko e dimenticavo infine Roma Piacenza 2-0. Quarta giornata di ritorno ovvero la ventunesima che si apre con Verona Atalanta 3-1, Piacenza Chievo Verona 2-2 con due rigori sbagliati dal Chievo con Corini, Fiorentina Roma 2-2, Inter Torino 0-0, Bologna Venezia 1-1, Lazio Milan 1-1, Udinese Perugia 0-0, abbiamo Brescia Parma 1-4 e infine Juventus Leccia 3-0. La ventiduesima giornata si apre con Atalanta Brescia 0-0, Bologna Inter 2-1, Chievo Verona Udinese 1-2, Roma Juventus 0-0, Parma Lazio 1-0, Lecce Verona 1-1, Torino Piacenza 1-1 e Milan Perugia 1-1. Questo era il terzo blocco del campionato 2001-2002. Io vi ringrazio cari amiche e cari amici e vi do appuntamento a un prossimo video con seriamente la Serie A a memoria dal campionato 86-88 al campionato 2016-2017. Ciao!